Un linguaggio universale capace di arrivare al pubblico e chiamarlo a riflettere su questioni sociali in una chiave critica e contemporanea. Con queste motivazioni al regista Paolo Virzi è stato assegnato il Pegaso d'Oro, massimo riconoscimento della giunta regionale toscana. A premiare il regista livornese è il presidente della regione toscana Enrico Rossi al cinema, la compagnia di Firenze. Presenti tra il pubblico molti studenti che prima della premiazione hanno potuto vedere uno dei film di Virzi, Ovo Soto, e poi hanno partecipato ad un dibattito insieme al regista, subissandolo di domande. Io lo ringrazio peraltro di essere stato qui tutta la mattina con il ragazzo assistito ad una bellissima lezione a dimostrazione di quanto sia importante oggi la cultura per dare risposte ai problemi del presente. Non ci sono scorciatoie, non ci sono chiusure che possono in qualche modo dare una risposta, paure che possono dare una risposta. La risposta viene dalla conoscenza, dalla cultura, dall'indagine sul mondo e su se stessi. E mi pare che da questo punto di vista noi abbiamo fatto bene a dare il massimo riconoscimento che è il Pegaso d'Oro a Paolo Virzi. Una giornata dedicata al cinema di Paolo Virzi con la proiezione dei film che hanno segnato la carriera dell'artista livornese che ha raccontato la vita del popolo partendo anche dalle storie di giovani come Novo Soto. Giovani come Virzi che a 21 anni lasciò Livorno con il sogno di diventare il regista. Ma cosa direbbe Virzi ai giovani e ai ragazzi che vogliono intraprendere la via del cinema oggi? Cosa direi? Direi di guardare fuori dalla finestra, di guardarsi intorno, di non affidare le proprie interazioni affettive e relazionali a una piattaforma privata con sede nella Silicon Valley che lucra sulla sua vita intima e affettiva. Quindi meno Facebook per tutti e più vite, più baci e più carezze e più litigate. E più cinema. E più cinema anche.